Siamo negli studi di Radio Venezia, accanto a me c'è Marco Bampa, vice capo servizio del Gazettino di Venezia per l'approfondimento della notizia della settimana. Direi che il prefetto di Gorizia che è diventato il nostro nuovo commissario è la notizia della settimana. Sicuramente notizia molto attesa, è arrivato quasi in extremis alla fine del mandato di Orsoli, scadeva 20 giorni dopo la presentazione delle dimissioni, è una scelta evidentemente molto ponderata da parte del governo che ha scelto un uomo di grande esperienza con un curriculum molto importante alle spalle per una città che non è comune, la città di Venezia che ha diversi problemi da risolvere. È l'uomo che dovrà portare Venezia al voto in primavera, credo che sia ormai da escludere la possibilità che si vada a votare in autunno, ci vorrebbe una finestra temporale aperta solo con un provvedimento di legge, è vero che oltre a Venezia ci sarebbe anche Reggio Calabria che è in regime di commissariamento, ma non sembrano al momento condizioni sufficienti per garantire la possibilità che si verifichi appunto un'elezione, si vada a votare appunto ad autunno, anticipato bene. Quindi è l'uomo che dovrà portare il comune Venezia al voto e con una serie di problemi davanti, insomma non di facile soluzione, la prima secondo me, la versione comune è sicuramente il bilancio che dove credo si metterà al lavoro fin da subito, ci sono dei 40 forse anche di più milioni di Euro da recuperare, da tagliare in qualche modo, lui ha già anticipato che cercherà di farlo ovviamente nella maniera più indolore possibile per i cittadini, ma resta da capire dove andrà ad incidere con questi eventuali tagli, insomma c'è un bel lavoro da fare anche quello. Corono delle indiscrezioni per esempio sull'aumento dei biglietti di ACTV per i veneziani, perché il biglietto attualmente è di 1,10 Euro a Verona per esempio e in tutto il Veneto costano di più, 1,30 Euro e quindi c'è il rischio, insomma anche 1,50 Euro, quindi c'è il rischio davvero che lì si tocchi sicuramente un punto dolente purtroppo, però va anche detto che lui per esempio ha curato la riforma degli enti sociali e degli enti locali per cui sicuramente darà un grosso contributo alla città metropolitana che invece Zaia, Zacariotto e altri la davano per tramontata. Sì o quantomeno hanno cercato, andando a parlare con il Ministro, di stoppare o di rinviare quantomeno la via della città metropolitana, ma è peraltro ben digerita, lo sappiamo dalla Lega, all'anno 21 con un sindaco effettivamente in carica, sembra che però questa non sarà la strada che sceglierà il governo, proprio avendo scelto un uomo che come dicevi tu ha già seguito la riforma degli enti locali, quindi conosce bene i meccanismi della nuova città metropolitana che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1 gennaio, che è ancora un po' tutto da scoprire, un po' tutto da mettere a fuoco con diversi passaggi istituzionali ancora da compiere, ma che effettivamente il Commissario è in grado di compiere, essendo un uomo esperto della materia, quindi anche in questo, e l'ha già detto insomma nelle sue prime dichiarazioni, si andrà avanti anche con la città metropolitana. Quindi un segnale della volontà del governo, diciamolo. Beh, grazie Marco Mampa, grazie a tutti voi per averci seguito, con lo Zoom del Gazzettino ci risentiamo e ci rivediamo venerdì prossimo.